Musica Ben ritrovati con l'informazione live di Udnews TV, l'appuntamento con il Tg della Notte per le ultime ore, le principali notizie di giornata dall'Italia e dal mondo ma anche e soprattutto dalla nostra regione. Partiamo però con la fumata bianca in Europa perché oggi sono arrivati i due nomi dei futuri ruoli alla guida della Commissione europea a partire dalla popolare tedesca Ursula von der Leinen che guiderà la nuova Commissione al post di Claude Juncker, il belga liberale Charles Michel alla presidenza del Consiglio europeo, la francese Christine Lagarde alla Banca Centrale Europea e il socialista spagnolo Josef Borrell come alto rappresentante. dell'Unione. A twittarlo l'attuale presidente del Consiglio, Donald Tusk, sono in corso contatti tra Bruxelles e Strasburgo per sciogliere anche l'ultimo nodo relativo alla presidenza del Parlamento europeo che oggi si è riunito per la prima volta in seduta plenaria. I paesi di Visegrad sostengono la candidatura della ministra della difesa tedesca Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione, aveva scritto nel pomeriggio su Twitter, Vlotan Kovacs, il portavoce del premier ungherese Viktor Orban. E a proposito di nomine al femminile, si era espresso questo pomeriggio favorevolmente su questa ipotesi anche il premier italiano, Giuseppe Conte. Andiamo allora ad ascoltare. Non possiamo scegliere il presidente della Commissione, non possiamo legarci al criterio dello spitz candidato perché significa evidentemente che le affiliazioni politiche prevalgono su tutte le altre considerazioni. Ora è inutile pensare di essere il migliore dei mondi, è chiaro che è una nomina questa che dovrà essere poi vagliata dal Parlamento, nel Parlamento ci sono i gruppi politici, quindi pensare a una nomina del tutto avulsa dai criteri di appartenenza a famiglie politiche, dai criteri di affiliazione politica non ha senso. Ma questo criterio non può essere assorbente, ce ne sono assolutamente degli altri. Primo quello che sia una personalità veramente che abbia una visione, come dicevo. Secondo distribuzione geografica, terzo anche il criterio di genere. Oggi faccio un'anticipazione, a me piacerebbe un presidente della Commissione donna. Abbiamo fatto asse con altri dieci paesi, questo lo vorrei dire. E sicuramente con questi altri dieci paesi noi abbiamo sensibilità diverse, non c'è una strategia, un'alleanza precostituita, predefinita, semplicemente siamo riusciti a coinvolgere altri paesi, tra cui anche quelli di Visegrad, ognuno con le differenti sensibilità, ma ci siamo ritrovati su questo obiettivo comune. Queste sono le parole del Premier Conte e dunque la futura commissaria europea sarà la popolare tedesca Ursula von der Leyen, che guiderà quell'ente che fino ad oggi è stato guidato da Claude Juncker. Oggi l'abbiamo visto prima seduta del Parlamento europeo anche per gli eurodeputati del Friuli Venezia Giulia, presenti tra gli altri l'uscente Marco Zullo del Movimento 5 Stelle e le new entry della Lega, Marco Dreosto e Elena Lizzi. È un grande onore rappresentare il Friuli Venezia Giulia, la Lega e il mio paese in Europa, impegno, responsabilità e legame con il territorio. Saranno alla base del mio mandato, ha commentato la neo-euro parlamentare. Ma è arrivata poco fa anche la notizia sull'altro caso del giorno, che tiene banco da diverse settimane, il caso Sea-Watch. La Commissione europea si avvia a chiudere appunto, anzi scusate, prima c'è anche un ulteriore dettaglio per quanto riguarda le politiche italiane, e la Commissione europea si avvia a chiudere il negoziato con l'Italia sui conti. Secondo quanto si apprende, il pacchetto presentato ieri dal governo italiano ha aiutato molto la trattativa orientandola verso una chiusura positiva. I capi di gabinetto dei commissari europei si riuniranno questa sera, il collegio sitterà domani alle 12.30 a Bruxelles. I commissari discuteranno sui conti italiani a partire da una situazione corretta per il 2019, anche se a quanto si apprende mancano ancora rassicurazioni sul 2020, ha detto il Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Questo dunque per i temi economici legati proprio ai rapporti Italia-Europa. Ma dicevamo, l'altra notizia del giorno è arrivata poco fa, il GIP di Agrigento non ha convalidato l'arresto alla comandante della Sea-Watch, Carola Rachete, e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Carola dunque torna libera. Per la magistratura italiana, ignorare le leggi e speronare una moto vedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema per la comandante criminale Carola Rachete. È pronto un provvedimento per rispedirla nel suo paese, ha commentato il Ministro degli Interni Matteo Salvini, proprio in merito alla decisione del GIP di Agrigento. Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia? Mi vergogno di chi permette che questo paese arrivi, è il primo delinquente dall'estero a disubbidire le nostre leggi, ha aggiunto il Ministro degli Interni. A proposito della comandante Carola, questa sera ve l'abbiamo proposto live durante il Tg delle 19, un sit-in spontaneo si è formato, è stato organizzato fuori dalla sede della Prefettura proprio per chiedere di scarcerare la comandante della Sea-Watch. Andiamo ad ascoltare le motivazioni di questo sit-in. Siamo qui perché il coordinamento 25 aprile si è fatto carico di questa iniziativa. Eravamo già in piazza l'11 maggio nel piazzale 26 luglio contro l'apertura della sede di Casa Pound e evidentemente la nostra sensibilità ci porta a reagire ogni qualvolta ci sono situazioni estremamente gravi per quanto riguarda questo tema dell'antirazzismo, dell'antifascismo e della violazione dei diritti umani. Siamo qua per solidarizzare con Carola perché è stata una donna coraggiosa che ha saputo farsi carico di una situazione effettivamente gravissima e ha avuto il coraggio di entrare in Porto Lampedusa facendo praticamente nulla si è creato su di lei una situazione repressiva inaudita che solo in Italia purtroppo con questo clima che è stato creato da questo Matteo Salvini sul quale si potrebbe fare una sfilza lunga un chilometro di nefandezze e invece si avvale di un clima assolutamente enfatizzato e negativo inventandosi pericoli che non ci sono lo avremo in regione la prossima settimana e quindi criminalizzare questa solidarietà verso i migranti mentre il diritto internazionale garantisce l'ingresso nel porto in quarto porto più vicino e più sicuro non era certamente Tripoli il porto sicuro era Lampedusa quindi Carola ha fatto quello che doveva fare lo ha detto perfino De Falco che era della Guardia Costiera più chiaro di così però in Italia non valgono le leggi del diritto internazionale ma quello che vuole Salvini per i suoi scopi di strumentalizzazione di campagna permanente sulla questione dei migranti che gli rende politicamente agitando spettri inesistenti per crescere elettoralmente per stabilire un suo potere mediatico un potere psicologico sulla popolazione siamo qui per protestare su casi specifici ma per dare l'allarme alla popolazione che si svegli che non è più possibile continuare a cadere in questo trabocchetto di questa tenaglia di questa morsa di questo buco nero psicologico e politico queste dunque le voci della protesta del sitino in favore di Carola che come vi abbiamo detto è stata scarcerata nella tarda serata di oggi su decisione della GIP di Agrigento una questione che sicuramente tornerà a far discutere anche nei prossimi giorni un'altra ultima ora arriva dal mondo della scuola perché? perché secondo alcune notizie il concorso a dirigente scolastico sarebbe stato annullato la notizia è rimbalzata sui social come dà conto anche il sito orizzontescola.it anche tra i gruppi dei partecipanti al concorso di dirigente scolastico molte le irregolarità segnalate dai ricorrenti ma la motivazione che ha portato all'annullamento riguarda l'illegittima composizione della commissione che ha analizzato le domande cosa accadrà? il Tardellazzo è annullato la procedura concorsuale con molta probabilità si dovranno rifare le prove scritte ed orali sarebbero salve invece le prove preselettive perché la commissione ha operato solo per le griglie delle altre prove che per quanto riguarda i 2.900 vincitori naturalmente non si rassegneranno e chiederanno un intervento politico il ministero ha fatto sapere che rispetto alla sentenza del TAR ci sarà con l'avvocatura dello Stato il ricorso e quindi l'appello al Consiglio di Stato il TAR ha accolto ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del MIUR non sussistevano secondo il di Castello i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari veniamo alla cronaca regionale ora perché nel pomeriggio di oggi c'è stato un nuovo rintraccio di richiedenti asilo è avvenuto in autostrada a 23 ad accorgersi di avere ben 22 persone a bordo un camionista turco che mentre stava percorrendo l'arteria partito dal porto di Trieste diretto in Germania si è accorto che sul carico del suo mezzo pesante erano presenti questi 22 iracheni evidentemente sfuggite ai controlli di confine e di dogana a Trieste tra questi 4 donne tutte di età compresa tra i 18 e 55 anni si erano introdotti nel camion praticando dei fori nel cielo del semirimorchio a forma di oblò calandosi poi all'interno sul posto è stata prontamente arrivata la patuglia della polstrada di Amaro coordinata dall'ispettore Sandro Bortolotti alla quale poi hanno dato manforte una seconda volante della postrada di Udine la ventina di persone rintracciate all'interno del mezzo era in condizioni discrete anche in virtù di temperature alte ma non soffocanti come le giornate precedenti tutti sono stati rifocillati con del cibo e soprattutto con dell'acqua per idratarli sono stati portati in questura Udine per le formalità di rito e con buona probabilità chiederanno asilo politico nessuna conseguenza invece per l'ignaro autista del camion un aggiornamento ora invece sull'incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi a Trieste in via Crispi il rogo si è sviluppato attorno alle 17.30 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile della via al civico 33 sul posto sono intervenute due squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Trieste un autobotte un'autoscala e l'autovettura con il funzionario che hanno effettuato le operazioni di spegnimento le vie e le zone limitrofe sono state chiuse al traffico stradale e pedonale i tecnici dell'area sono intervenuti per accertarsi delle condizioni delle condotte e delle utenze per evitare ulteriori danni il piano dove è scoppiato l'incendio risulta inagibile e al momento dello scoppio all'interno fortunatamente non si trovava nessuno la mansarda all'ultimo piano sarebbe danneggiata seriamente continuiamo con la cronaca con il riassunto delle altre pillole di giornata a cura di Francesca Santoro i finanziari della compagnia di Monfalcone hanno denunciato alla procura un tassista per truffa aggravata ai danni dello Stato sebbene formalmente in stato di temporanea inabilità assoluta al lavoro per malattia l'uomo continuava a svolgere regolarmente l'attività professionale a Monfalcone percependo indebitamente dall'INAI un'indenità quantificata in 5.600 euro grazie ad appostamenti e all'analisi dei tabulati telefonici i militari hanno individuato decine di clienti che una volta identificati sono stati sentiti come testimoni ulteriori elementi probatori sono stati forniti dalla polizia locale che ha monitorato i passaggi effettuati dal taxi in zona traffico limitato una coda di almeno 3 km traffico in tilt oggi a Dignano come previsto da FWG strade il cantiere per la sostituzione di circa 300 metri di guard rail lungo la strada regionale 464 in corrispondenza della nuova rotatoria di Dignano ha creato problemi alla circolazione ai disagi ha contribuito anche un incidente che ha imposto la chiusura al traffico fino alle 11 del ponte della Delizia lungo la ponte Bana tra Balvasone e Codroipo il traffico è stato perciò deviato verso nord anche per la massiccia presenza di mezzi pesanti che hanno dovuto ripiegare sul ponte di Dignano anche i mezzi dei vigili del fuoco di Spilimbergo che dovevano raggiungere il luogo dell'incidente sono rimasti imbottigliati nel traffico i carabinieri di Sacile hanno segnalato alla prefettura di Pordenone per assunzione di stupefacenti una 17enne di fiume Veneto la studentessa perquisita dai militari aveva con sé sei pastiglie di suboxone un flacone di metadone un grinder con residui di marijuana e un involucro in cielo fan contenente tracce di ruina segnalato anche un 19enne di Budoia già sorpreso in precedenza con stupefacenti dei militari di Polcenigo nei guai per consumo di droga anche una 35enne indiana e un 38enne è Kosovaro già notte le forze dell'ordine i militari avevano notato sabato la coppia Budoia in un'auto posteggiata in una zona boschiva perquisiti i due avevano con loro una dose di cocaina e una di hashish due pitbull sono stati lasciati dal proprietario chiusi sul terrazzo di un appartamento pansano sotto il sole coccente in uno spazio angusto in mezzo i loro stessi escrementi allertato dalla chiamata di un vicino la polizia locale di Monfalcone è intervenuta gli agenti hanno portato sul posto il veterinario dell'azienda sanitaria e hanno denunciato la procura al proprietario peraltro non nuovo comportamenti del genere l'uomo dovrà rispondere di detenzione di animali in condizioni incompatibili per la loro natura mentre i cani sono stati affidati al canile municipale di Gorizia solo 2550 candidati si sono presentati quest'oggi in Fiera Uli nella prova di preselezione per il concorso di infermieri le iscrizioni erano state 9630 quindi l'adesione è stata decisamente al di sotto delle aspettative vediamo provengono un po' da tutta Italia ma soprattutto dal sud i futuri infermieri delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia sul fronte delle provenienze la stragrande maggioranza degli iscritti è infatti di Sicilia Campania Puglia e Lazio mentre dalla regione ne provengono solo 923 i residenti all'estero risultano 48 di cui 30 del Regno Unito è cominciato con la prova di preselezione in maxi concorso per assegnare 545 posti i numeri sono stati però al di sotto delle aspettative a fronte di 9630 iscritti se ne sono presentati appena 2550 una scarsa adesione da imputare alla concomitanza di altre selezioni oltre che i tempi serrati delle prove previste a Udine candidati per i futuri infermieri stamattina se ne sono presentati 1277 e oggi pomeriggio sembra che l'affluenza sia più o meno come stamattina vi aspettavate questa ondata di candidati? ce ne aspettavamo di più perché noi abbiamo preparato tutto per 9630 candidati quindi ci aspettavamo qualcosina di più come funziona l'esame? quali sono le prossime tappe? allora l'esame di oggi sono 40 quiz a risposta multipla una sola risposta esatta passano i primi 2000 più i pari merito che faranno la prova scritta venerdì mattina successivamente avranno la prova pratica che si terrà in autunno e poi gli orali quindi si sapranno i vincitori di questo esame quando? a fine anno a inizio 2020 diciamo quanti sono i posti in paglio? 545 per le aziende del Friuli Venezia Giulia ci spostiamo ora in montagna ci sono due cose che contraddistinguono le genti del Friuli Venezia Giulia a saper far bene le cose ed essere rispettosi per questo la tappa del Giro d'Italia su Lussari sarà fatta nel rispetto della santità del luogo e della natura offrendo un percorso adeguato e un'occasione unica e ripetibile a dichiararlo il vice governatore Riccardi nel corso del sopralluogo tenutosi oggi pomeriggio sulla pista che dalla Valsaisera sale al Monte Santo e che potrebbe diventare l'ultima tappa dell'edizione 2021 della Corsa Rosa smorziamo subito le polemiche accese nelle scorse settimane ha detto Riccardi perché le tecnologie di oggi ci permettono di poter far bene le cose limitando l'impatto per la sistemazione della pista Riccardi ha ribadito quanto già espresso anche in occasione del progetto di fare dell'Ussari la seconda montagna mitica del ciclismo dopo lo Zoncolan è giusto ha spiegato preoccuparsi dell'impatto ma non ci si può chiudere a riccio davanti alle novità oltre a Riccardi hanno partecipato al sopralluogo il sindaco di Tarvisio Renzo Zanetti il patron delle tappe regionali del Giro Enzo Cainer assieme ai tecnici della Corsa Rosa e della protezione civile regionale in precedenza Riccardi aveva compiuto un altro sopralluogo in Valdogna dove si era verificata nelle scorse settimane una affrana i tecnici della protezione civile stanno valutando come intervenire per eventualmente realizzare una viabilità provvisoria stante che la strada d'estate è usata da molti allevatori che portano all'alpeggio i rispettivi capi Friuli assosterà invece lo sviluppo di Biolab l'azienda goriziana già leader nella produzione di cibi biologici è dotata di un ambizioso piano di sviluppo sentiamo i dettagli Friuli sostiene la crescita e l'internazionalizzazione di Biolab con un milione di euro l'impresa di Gorizia attiva nella filiera dei prodotti biologici potrà contare su un aumento di capitale di 700 mila euro unito a un finanziamento di 300 mila di durata quinquennale e a un affiancamento manageriale con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo negli ultimi anni il successo sempre più marcato della cultura del biologico ha permesso a Biolab di aumentare il fatturato che nel 2018 ha raggiunto gli 8 milioni 400 mila euro con un incremento dell'11% rispetto a 2017 inoltre l'azienda commercializza i prodotti derivanti della trasformazione della rosa di Gorizia come regione e quindi anche con le nostre controllate come Friulia l'idea ovviamente è di dare un contributo al tessuto produttivo della nostra regione e devo dire che in aziende come questa dove c'è un grande investimento sulla ricerca e su proporsi al mercato estero come eccellenza utilizzando anche in buona parte prodotti del territorio vuol dire andare a favorire tutta la filiera della produzione la qualità della produzione e quello che noi vogliamo far conoscere a livello nazionale internazionale che il prodotto del Friulio Venezia Giulia non è soltanto un prodotto buono ma è un prodotto sano e un'azienda come questa penso ne possono essere la testimonianza oltretutto su un mercato di riferimento che è tutto quello dei cibi biologici del vegano del vegetariano che è sicuramente un mercato in forte aumento sul territorio europeo e dunque un presidio così importante oltretutto a Gorizia in una realtà imprenditoriale che deve vedere un rilancio da qui ai prossimi anni è un valore aggiunto enorme altre aziende come l'Electrolux soffrono gli operari soffrono il caldo per contrastare gli effetti delle future ondate le organizzazioni sindacali e gli industriali hanno sottoscritto un accordo che prevede una serie di accorgimenti nelle fabbriche si va dalla distribuzione di acqua gratuita o a prezzi calmerati all'installazione di ventilatori o di macchine di raffrescamento e poi ancora la distribuzione di sali minerali e di frutta per eventuali pause aggiuntive invece l'accordo rimanda alla contrattazione interna pause aggiuntive che la scorsa settimana sono state al centro di una protesta proprio nello stabilimento Electrolux di Porcia dove in assenza di un accordo con l'azienda gli operai se ne sono ritagliate alcune autonomamente 6 minuti in coda ad ogni pausa normale e 12 dopo la mensa si parte dal monitoraggio da parte dell'azienda del microclima ha fatto sapere Cristian Pizzo segretario CIS di Pordenone si tratta di analisi per capire temperatura e umidità e ventilazione e poi sulla base del quadro che emergerà ci sarà un confronto con i rappresentanti dei lavoratori apriamo ora la pagina sportiva con i saluti da parte della società bianconera dell'Udinese al suo capitano Valon Berami perché questo pomeriggio è stato ufficializzato l'ingaggio del centrocampista svincolato dall'Udinese per i prossimi due anni farà parte del Sion squadra svizzera della sua nazione e con questo post sul sito dell'Udinese c'è il ringraziamento e il saluto proprio a Valon Berami con l'augurio di un in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera a proposito di calciatori svizzeri invece una notizia che ci arriva dal sito della Gazzetta dello Sport è purtroppo una tragedia è stato ritrovato il corpo della calciatrice svizzera affogata nel lago di Como come possiamo leggere anche dal sito della Gazzetta il cadavere di Floriana la giocatrice appunto svizzera scomparsa alcuni giorni fa a una profondità di 204 metri era una tragedia che appunto si temeva da sabato pomeriggio purtroppo si è avverata dopo tre giorni di incessanti ricerche nel lago di Como da parte dei sommozzatori oggi il corpo della giovane calciatrice svizzera 24enne è stato ritrovato senza vita torniamo invece ai colori bianconeri e all'ufficialità della prossima sfida amichevole durante il periodo di precampionato contro il Borussia Dortmund e sarà un remake della sfida europea vissuta dalla società bianconera negli ultimi anni un amichevole che appunto si giocherà il 27 luglio all'ore 17 alla Cashpoint Arena di Haltech in Austria durante dunque il ritiro bianconero di Sunfight questa l'ufficialità che c'era stata anticipata proprio ieri durante il Tonight dal direttore generale Franco Collavino stanotte invece alle 2.30 la sfida tra Brasile e Argentina nella semifinale di Coppa America sarà una grande occasione per Rodrigo De Paul il numero 10 bianconero atteso alla conferma da titolare del CT Scaloni Maurizio Ferrari Il calcio sudamericano vibra per la finale anticipata della Coppa Brasile-Argentina lascerà soltanto un posto per il vero atto conclusivo della manifestazione ma l'elesimo scontro del classico alle 2.30 italiane terrà incollati gli occhi di numerosi tifosi e addetti ai lavori compresi quelli dell'Udinese con un De Paul sempre più al centro del progetto del CT Scaloni sempre impiegato titolare dalla seconda giornata dove l'Albi Celeste ha iniziato a rialzare la testa dopo la partenza shock contro la Colombia Rodrigo Damezzala ha convinto ma il livello della contesa ora si alza all'ennesima potenza perché seppure non brillanti fino a qui nell'edizione della Coppa America quando si scontrano Brasile-Argentina non si può mai catalogare come una partita come tutte le altre De Paul sogna una notte da protagonista per incastrare il suo momento magico e la sua miglior stagione con l'orgoglio di alzare la Coppa e se è vero che la partita per la sua selezione si giocherà in trasferta il Mineirao è uno stadio che ai verde oro evoca i fantasmi della semifinale contro la Germania persa per 7 a 1 nel mondiale di casa del 2014 per restare nella storia e per tornare in finale il prossimo 7 luglio servirà anche il contributo del 10 udinese l'Argentina potrebbe guagliare l'Uruguay a 15 titoli ma non vince dal 1993 e nelle ultime 5 edizioni ha perso per 4 volte la finale un tabù che Rodrigo e compagni vogliono assolutamente rompere e stanotte dunque la verità per l'Argentina di De Paul prima di salutarci uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani in edicola domani che riprendono la notizia con la quale abbiamo anche aperto la nostra edizione notturna partiamo dal giornale che titola retata di buonisti il business dei migranti schiaffo agli italiani carola libera sgominate quattro onus che lucravano sull'accoglienza e poi di spalla così di maio disprezza agli imprenditori dall'ILVA ad autostrade appunto del direttore Alessandro Sallusti passiamo alla successiva la prima pagina della verità quotidiano diretto da Maurizio Belpietro impunita ma non gradita la GIP non convalida l'arresto del racchete adempiva ad un dovere Salvini furibondo per i giudici speronare una nave non comporta la galera disposto il decreto di espulsione toghe permettendo dice il ministro degli interni e ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine arrivate in redazione il foglio che tra le tante proposte titola viva la nuova Europa en marsch il punto sul futuro anche dell'Unione Europea alla luce degli incastri delle nomine agli organi di vertice dell'Unione e oggi proprio con la prima seduta dell'Europarlamento e poi ancora la propaganda enemica della sicurezza altri editoriali del quotidiano diretto da Claudio Cerasa ancora libero la prima pagina robe da matti carola libera per la magistratura non ha commesso reati il GIP assolve la piratessa è stato un errore arrestarla non ha violato alcuna legge agito per salvare vite umane e Lampedusa era l'unico porto sicuro il prefetto dispone l'espulsione il ritratto della ragazza tedesca che invece di lavorare ci carica di immigrati e piace alla sinistra questo il profilo del quotidiano diretto da Vittorio Feltri è tutto naturalmente domani nel corso della nostra rassegna stampa troverete tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali in edicola oltre a quelli locali ci salutiamo come al solito con la rubrica Cadde Oggi di Guido Gomirato buonanotte a tutti il 2 luglio 1983 è una data importante per quanto concerne la vicenda l'avventura di Zico in terra friulana la Federcalcio o meglio il suo presidente Federico Sordillo bocciano il contratto con cui l'udinese aveva acquistato dal Flamengo Zico viene bocciato anche quello di un altro brasiliano se reso alla Roma apre di cielo si scatena il popolo friulano si mobilitano anche i politici in municipio a Udine il sindaco avvocato Candolini riceve parlamentari riceve i dirigenti dell'udinese il presidente Lamberto Mazza riceve anche delegazioni dei tifosi insomma i friulani sportivi e non si stanno mobilitando contro il grave provvedimento di Sordillo che non è appellabile come ho detto si mobilitano anche i politici i parlamentari e il giorno successivo a Roma gli onorevoli Scovacricchi Fortuna Gasparotto De Carli Santuz Baraccetti si incontrano a Roma con il ministro dello spettacolo Signorello si cerca di trovare una soluzione al problema insorto con il no federale a Zico il 4 luglio poi c'è anche la mobilitazione dei tifosi bianconeri che si danno appuntamento in piazza 20 settembre a Udine alla fine tutto finirà come il popolo bianconero sperava Zico viene riabilitato dalla giunta del CONI e potrà giocare con l'Udinese e nel campionato italiano con l'Udinese con l'Udinese con l'Udinese